Benvenuti e bentornati sul canale, oggi chiacchiere del sabato, volevo chiacchierare con voi del più e del meno, o meglio, non tanto del più e del meno, ma tipo ho acceso la videocamera lasciandomi un po' così trasportare da vediamo cosa dirò, non lo so ancora, ma una cosa sicuramente la voglio dire, make up, sto continuando a utilizzare il fondo super coprente di Sephora che mi piace molto, mi voglio vedere piallata in questi giorni perché sono giorni un po' pesanti, di preoccupazioni, ho pensieri per la testa, quindi ho delle belle occhiaie, dormo poco di nuovo e quindi super base. Poi ho utilizzato Lolita come rossetto che è sempre molto bello, è il rossetto liquido di Kat Von D, Lolita, questo qua, e sugli occhi invece mi sto dando da fare con lei. Vi ribadisco, se non l'avete ancora fatto, correte da Sephora, non la trovate online, ma trovate il Vault con questa palette, quindi quel cofanetto bellissimo, con due cassettini tutto trasglitterato, con i due cassettini, che contene la Modern Renaissance e questa palette. No, 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 non è vero, la Modern Renaissance e la Soft Glam, questa la dovete accattare separatamente, niente, sfarfallo, mi sto confondendo, comunque anche la Soft Glam, ovviamente, la sto strausando, lo sapete. oggi ho fatto il make up con questi colori ho messo questo bel colore all'inizio e alla fine dell'occhio e ho fatto un hello eyes al centro ho messo questa meraviglia di verde particolare e nella piega ho messo questo quindi il make up è fatto con questi tre colori non vedo l'ora poi di andare a utilizzare la parte viola ah e all'interno proprio dell'occhio come punto luce ho messo questa roba spara flash mi piace tantissimo e questo era quello che vi volevo dire relativamente alla palette performance sempre le stesse quelle di Anastasia cioè topperia invece vi volevo dire che per quanto riguarda i regalini di Natale anche l'anno scorso ve l'avevo detto dovete assolutamente passare da OVS perché nei corner Shaka trovate veramente colunque cosa anche tutte le mollettine aspettate che prendo qualcosa che me la voglio mettere secondo me è troppo carina da mettere nel tipo nei pacchettini in regalo delle amiche che potete magari comprare che so un gloss, un rossettino e poi ci aggiungete le mollettine super di tendenza quest'anno vedete che a me le avevano mandate e adesso mi uso qualcosa c'è per esempio questa stupenda con tutte le perle poi ho il cerchietto in stile princess che mi sa che potrei mettere quello oggi guardate che bello il cerchietto in stile princess poi ho la scritta sweet quindi oddio io le chiamo forcine non so voi come le chiamate se le chiamate forcine oppure no comunque io le ho sempre chiamate forcine e secondo me queste sono una idea regalo troppo troppo carina da aggiungere magari a dei pacchettini tipo che so vi procurate magari delle calzette di bobo natale e ci mettete dentro due o tre cosine guardate anche queste con le stelle adesso me le apro tutte questa qua mi piace tantissimo è un cuore sempre di perline e queste sono delle idee secondo me molto carucce ma adesso vi faccio vedere make up ragazze perché anche l'anno scorso secondo me da OBS si trovava del make up pazzesco oh queste mi sa che metto queste niente voglio mettere tutto però c'è anche love no si vado stovagendo a vedere dalla parte opposta c'è happy e c'è ho visto love l'ho visto prima eccolo qua c'è love e poi c'è anche questi qua con le pietrine troppo carini mi sa che metto love e poi dall'altra siccome vanno tipo tutti insieme da una parte mi pare ci proviamo adesso aspettate che torno che sono fatta ok ho deciso di mettere la scritta love più le altre due vedete adesso me le tengo voglio così un po' un po' festaiola oggi quindi metto metto quelle tre sì mi piace e quindi secondo me queste sono delle idee carinissime ma io volevo farvi vedere il make up perché mi hanno inviato delle cose e siccome anche l'anno scorso secondo me c'erano delle cose carinissime le palette costano tipo le più care 10 11 12 euro quindi un regalino a un'amica lo si fa tranquillamente io ho paura di rompere tutto quindi questo è di shaka e quelle che vi voglio far vedere sono queste quattro soprattutto dovete correre perché queste sono una limited edition e non le trovate più già non si trovano dappertutto molte di voi le avevano già lumate nel video del wiki vlog in cui ero andata proprio per la presentazione delle novità natale proprio da shaka e molte le avevano appunto viste infatti adesso vi lascio il pezzo del wiki vlog dove appunto faccio vedere gli swatches di queste palette non so se ve lo metto qua in clip fra poco insomma lo vedrete e cioè io vi dico soltanto che questa è quella oro guardate cos'è quella oro ragazze e tutte queste tonalità qua sono veramente super super spaventate cioè è bellissima queste palette se non sbaglio costano sui 12 13 non me lo ricordo però insomma giù di lì e sono appunto queste qua questa si chiama precious stone rose quartz eccolo qua questo è il nome poi c'è quella diciamo sul verde infatti si chiama precious stone emerald e guardate la bellezza cioè io non so neanche quale ah le devo le devo aprire questa è ancora sigillata guardate qua questa aspettate che ha la la piastrina l'avellina non è l'avellina è il cosino di plastica guardate che meraviglia questa magari piacerà a chi si trucca un po' più colorato ma io vi assicuro che tipo questo colore cioè è pazzesco è anche questo voi non lo vedete vi sembra un normalissimo panna invece no è tipo un oro super super glitterato se non ricordo male questa palette ha un colore che è questo che tutti continuavano a dire che valeva tutta la palette no vabbè ma vale tutta la palette perché qualcosa di allucinante poi molto bella anche quella ho argento andiamo a aprirla eccola qua questa è un po' più fredda come vedete ma anche qua ci sono tutti questi qua che sono super sparkle questi tre centrali questa si chiama diamond è infatti tutta argento e l'ultima che è questa qua super fucsia si chiama amethyst sempre della linea precious stone vado anche questa a aprire qua lo scotch oddio forse era questa quella che tutti dicevano vale la palette solo questo colore champagne questo qua cioè non potete capire ma tanto avrete visto state vedendo gli swatches sono qualcosa di meraviglioso e queste qua erano quelle che tutti noi stavamo puntando di più ce le stavamo guardando con gli occhi a cuore però mi hanno mandato anche e ho comperato anche delle altre cose che vi faccio vedere allora questa l'ho comperata io il giorno appunto del press day ho detto no vabbè è bellissima la voglio provare ed è della linea sempre di revolution che si chiama però make up obsession mi ha stregato perché è tutta super calda l'ho pagata pochissimo 7 euro se non sbaglio e ha dei colori ma anche questa l'ho swatchata lì nel video adesso vedrò di recuperare assolutamente il pezzo in cui l'ho swatchata anche di questa qua questa c'era in varie tipologie in varie varianti varie varianti questa è la warm up c'è scritto anche qua davanti warm up cioè sono bellissimi si tratta di uno due tre opachi due satinati e tre scimmeroni dovrebbe essere più o meno così è stupenda quindi ditemi se volete un look con qualcuna di queste tanto per curiosità poi queste due una me l'hanno regalata e una l'ho comprata loro mi hanno regalato questa che è quella fredda di revolution che si chiama intensely pigmented foil shadow palette quindi è una palette di foiled di pigmenti diciamo foil e si chiama foil frenzy hybrid ve lo faccio vedere qua così non ci sono problemi stavolta anche se non ve lo scrivo in info box ve le sto facendo vedere bene questa è tutta di toni freddi e sono tutti 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 shimmer quindi sono delle palette assolutamente da tenere sulla vostra make up table ma da accostare con una palette di matte con cui puoi andare a lavorare e come vedete ci sono dei toni freddi cioè tipo questo blu che è qualcosa di pazzesco io però mi sono così innamorata della texture che visto che loro mi avevano regalato questa mi sono compierata questa qua e questa invece si chiama foil frenzy sempre ma si chiama fusion eccola qua e state pronte perché questi sono i colori e niente parlano da soli sono veramente molto molto belli io ho questa in questo momento non vi faccio swatches eccetera perché come vedete sono tante ci metteremo una vita diventerebbe noioso però posso assolutamente metterle alla prova una per volta anche perché chi non le trova da OVS può trovarle sul sito di Makeup Revolution insomma quindi ha del tempo magari anche per pensarci su vedendole all'opera è bellissima poi tutte quelle che vi faccio vedere adesso me le hanno regalate perché io appunto ho comprato quelle due un'altra che mi hanno appunto regalato si chiama Makeup Obsession Belle Jordan non so se sia in collaborazione con qualcuno è questa palette qua se avete visto ma vi lascio allora intanto vi lascio qua in informazioni il wiki vlog dove vi faccio vedere perché proprio faccio un bel giro all'interno del wiki vlog c'è una bella clip dove faccio un bel giro all'interno appunto del OVS vi faccio vedere tutte 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 le palette che hanno presentato sono tantissime credo più di 20 palette quindi insomma non ve le posso far vedere perché non le ho tutte qua però questa era una delle più belle e me l'hanno appunto omaggiata quindi sono super contenta vado a tagliare la plastica guardate quanto è bella è proprio carina da quello che ho capito si possono estrarre le cialdine perché forse c'è un progetto in ballo che loro vogliono praticamente farle un po' di componibili di palette quindi vedete che ha questa specie di roba che si può sollevare qua i colori sono molto belli super super nelle mie corde ma non l'ho provata quindi non vi so dire in merito a pigmentazione o altro però ho un sacco di palette da provare per tanti video poi mi hanno regalato la Revolution Courage la Wild Animal Palette che però è una palette di da quello che ho capito viso potrebbe essere perché dice palette di fard no no è occhi ah è vero fardo paupiere quindi in francese ok anche in questo caso c'è la velina che copre tutto e guardate quanto è bella devo dire che ci hanno regalato le più belle assolutamente guardate qua top 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 mi piace veramente tantissimo questa è praticamente tutta quanta di no non è tutta quanta ha un bel po' di matte qualcuno satinato qualche altro proprio matte e vari shimmer non ho quelli con la texture tipo fiorellini tipo no tipo maculata sono satin o matte gli altri invece sono shimmer bellissimissimissima non l'avevo neanche vista così bene questa perché l'ho ricevuta da pochissimo e la volevo spacchettare con voi poi mi hanno dato la Be In Love With che è sempre della linea Make Up Obsession e il pack sono tutti cartonati molto molto belli molto fatti bene molto resistenti questa è una palette di nude 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 quindi ha un super glitterato un super appunto shimmer poi neanche altre altri due o tre shimmer ma uno è proprio glitter ti sembra glitter pressato che sarebbe questo qua vedete per il resto sono toni super neutri però veramente veramente bella 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 anche qua vedete che c'è la tecnica del tirare su nel caso le cialdine sono tutti toni nude sul rosato pescato molto delicato bella mi piace anche questa moltissimo probabilmente tra quelle che ho visto mi hanno omaggiato quelle che avrei scelto poi mi sa che con le palette abbiamo finito mi hanno regalato due polveri una è una cipria matte di make up di make up obsession che si chiama game set matte ma non so dirvi di più una cipria proprio matte questo invece l'ho provato ed è qualcosa di allucinante io lo userò tipo sull'occhio è tipo un mega ombrettone perché come come illuminante secondo me mamma mia però ragazzi questo tipo piccoli tocchi su dei look sugli occhi è qualcosa di spaziale si chiama diamond bounce illuminating highlighter ed è di lotty london questo qua non coglierete assolutamente mi sembrerà una cialda bianca ma io vi assicuro che è luce pura e poi è super cremoso al tatto lo vedete è luce pura mi ha sconvolto quando l'ho applicato ho provato anche a tamponarlo guardate qua sembra bagnato però devo anche provarlo perché vi devo dire che una volta sul dito è super sottile non sento pezzettoni quindi forse mi sto anche sbagliando vabbè poi mi hanno dato degli ombretti singoli io non sono pazza per gli ombretti singoli ma devo dire che di questi qua sto meditando di andare a prendere perché si tratta dei lotti london foil questo si chiama golden hour sono dei metallic eye shadow cioè sono allucinanti io ve lo faccio vedere sono allucinanti anche questi ve li faccio vedere negli swatch appunto nel video li vedete benissimo quindi ve li rifaccio qua vi rimando lì guardate cosa sono cioè sono qualcosa di allucinante sapete che cosa faccio per non farvi vedere tutto il wiki vlog che magari non vi interessa non vi metto il video in scheda ve lo metto in infobox così posso mettere il link al minuto esatto in cui c'è proprio il pezzo di OVS con tutto il giro per il press day quanto sono carina che non vi faccio vedere tutto il video mentre se lo metto in scheda parte dall'inizio se lo metto invece in infobox riesco a mettere un link che quando voi cliccate andate precisamente al punto d'inizio del giretto che ho fatto appunto da OVS con tutti gli swatches quest'altro è sempre un ombretto di Shaka in questo caso che si chiama Starlight e anche in questo caso li avrei voluti tutti non amo più gli ombretti singoli però quando vedi ste robe ti viene voglia assolutamente di cioè comperarli perché io vi faccio adesso vedere e capirete cioè vedete qua di cosa stiamo parlando cioè parliamo di ombretti bellissimi cioè secondo me si sono proprio superati e poi adesso ci sono delle cosine random che vi faccio vedere che sono per esempio mi hanno dato la duo la crema la crema sì la colla per le ciglia pinte poi mi hanno dato il Lottie Freakle Tint per fare le lentiggini chissà mai se lo userò il Revolution Matte questo liquid lipstick matte rosso poi lo Sheer invece il Revolution sempre rosso ma Sheer quindi brillante e poi lo Star Metal che dovrebbe essere invece in questo caso per gli occhi se non sbaglio purtroppo non lo leggo penso che sia per gli occhi ed è un rosa metallico ciglia finte di Ardell poi ancora ultime cose il Face Serum Gold c'è una marea di prodotti coreani quindi se per esempio alle amiche volete mettere le forcinine le cosine e magari una mascherina coreana un prodottino coreano c'è di tutto a me hanno dato questo poi mi hanno dato queste crazy micro mask cerotti purificanti anti imperfezioni ci sono tutte queste pucciaserie poi particolari poi mi hanno dato questa peel off mask olografica che la maggior parte come vi ho detto sono coreane ma non tutte questa qua poi la mask bar gingerbread cookie cream mask questa e per terminare vedo una crema mani all'argan vedete anche questi cioè mettete una cremina a mano una mascherina una mollettina di queste e il regalino è fatto ultima ultima cosa è la mask bar gold foil una peel off di unmask beauty che è questo brand che in questo caso è sempre coreano sì questa qua è una peel off gold non è finita perché poi a casa mi è arrivato questa meraviglia qua vi faccio vedere guardate qua questo è un super regalo che vi potete fare o che potete fare però ovviamente adesso non mi ricordo il prezzo lo controllerò e se lo trovo ovviamente ve lo lascio contiene tutte 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 queste cose praticamente un super cofanetto make up però di revolution quindi è ovvio immagino che costerà meno che non se questo cofanetto fosse di una marca blasonata da sefora però io ragazzi vi dico che la qualità di questi prodotti secondo me sul mercato è molto molto concorrenziale sapete che ve li ho sempre recensiti bene i prodotti di make up revolution sono veramente ottimi anche l'anno scorso ve l'avevo fatto sto video vedete ci sono qua praticamente tutti 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 quanti i prodotti che sono lì nella copertina in pratica quindi palette adesso ve li faccio vedere tutti poi qua c'è translucent pressed power quindi c'è una ecco bene una cipria opaca c'è una cipria opaca una cipria per fissare opaca non so cosa dico a volte poi c'è l'eye primer quindi il primer qua dentro è contenuto poi abbiamo il brush set essential per occhi quindi si tratta di tre pennelli ma che carini guardate struppo carucci morbidi 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 poi che bello il colore stupendi cioè secondo me una sorella un'amica la fate troppo felice con queste cosine poi ancora l'eye defining kit kit di definizione per gli occhi cosa contiene niente ragazze sto facendo danni allora contiene un pennellino d'eyeliner poi contiene una matita occhi e una matita medium brown e una in black quindi una matita marrona una matita nera e un pennellino per dare appunto l'eyeliner ancora la base luminosa primer appunto per il viso vediamo dove stai dovrei aprire dall'altra no ok qua eccolo qua il primer viso non vi ho fatto vedere il primer per gli occhi vediamolo era questo vado ad aprire sembra tipo un calendario dell'avvento ecco è l'eyeliner vedete con sicuramente pennellino applicatore floccato quant'altro però sento che c'è qualcos'altro ah no è la la confezione in cartone il brush set ve l'ho fatto vedere la polvere ve l'ho fatta vedere la palette ve la faccio vedere meglio perché non l'ho scartata è una palette che si chiama rainbow metallic shadow palette una palette di colori molto molto chiari ecco questa non è nelle mie corde quindi potrebbe essere un regalo magari che faccio io a qualche amica che invece magari si trucca un po' più colorata quindi questo poi illuminating fixing spray quindi wow un fissatore per il make up questo invece li amo eccolo qua è un fissatore illuminante quindi vi da un finish glow poi ancora un blush e highlighter palette quindi una palette di blush e di illuminanti la tiro fuori perché ve la voglio far vedere eccola qua voilà si sono appunto dei blush e degli illuminanti poi ancora abbiamo la palette bronze e contouring quindi voilà questa poi stiamo per terminare non lo so ne mancano ancora tre c'è il kit lip gloss trio sono questi tre colori vedete un nude un rosa più acceso un rosa più tenue e sono dei lip gloss poi c'è la matte neutral eyeshadow palette questa mi piace perché sono tutti matt ma soprattutto sono tutti colori neutri che sono sicuramente molto molto più nelle mie corde per quanto è una palette molto chiara anche questa quindi mi lascia un po' perplessa perché sono tonalità piuttosto chiare ultimo pezzo non ho idea di cosa sia la smoke and shimmer shadow palette quindi una palette per fare degli smoky eyes che ha anche delle tonalità più shimmerose quindi andiamo a aprirla e vedere ho rotto dei pack perché sono una capra eccola qua anche in questo caso per essere una palette da smoky a tanti tanti chiari quindi le palette devo dire che non mi entusiasmano tantissimo mentre gli altri prodotti mi ispirano di più ho ricomposto tutto il cofanetto eccolo qua ve lo faccio vedere da vicino la scatola è molto bella sicuramente la terrò perché mi è pratica per metterci anche semplicemente gioiellini con lanine eccetera insomma nel mio armadio eccetera eccetera quindi ragazzi se niente vi ho fatto vedere un botto di roba spero di avervi dato delle idee natalizie e di avervi fatto compagnia in questo sabato prenatale volo 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 a lavoro perché peraltro ho rifatto il look identico a quello di ieri devo dire mi sono ritruccata nello stesso identico modo comunque adesso è ora di volare a lavoro mangio qualcosa perché non ho ancora fatto colazione e andale che è tardissimo e noi mi raccomando mi raccomando ci vediamo domani per il wikivlog perché quello è importante il wikivlog fondamentale ciao ciao